1, 2, 3, andiamo, prendiamo la destra è alta, lo andiamo a lavorare così i passi sono commisurati se voglio fare un passo lungo devo flettere prendo la pausa come possibilità di darmi qualcosa di diverso pausa e ricomincio il tempo basso ok? niente di difficile eh? solamente dentro o fuori un esercizio di stile e di ritmo stasera eh? non c'è, non ci sono pausa la destra è una pausa e il proprio colpiare una nuova così non vedo non c'è, non ci sono mai non ci sono di più non ci sono di più non ci sono mai Sì, uscite fai questo. Grazie a tutti.